Musica Benvenuti a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. Speranze, timori, rancori, la ripresa difficile. Questo è il titolo dell'Outlook Italia Censis ConfCommercio 2018 presentato nei giorni scorsi dalla Confederazione che ci rassicura che l'epoca della crisi è passata ma ci dice anche che i cittadini percepiscono sempre di più la fragilità della dinamica economica. Tra il 2007 e il 2018 ogni italiano ha perso a parità di potere d'acquisto 1.000 euro di consumi, quasi 2.000 di reddito disponibile e circa 20.000 euro di ricchezza complessiva. Insomma, se l'epoca della crisi è certamente passata, sembra che attualmente stiamo assistendo ad uno sgonfiamento della ripresa per colpa di una dinamica economica fragile, percepita anche dai cittadini che peraltro attribuiscono alle spese obbligate la principale origine dei vincoli al proprio consumo. Detto che per il 37,5% degli intervistati la principale criticità che affligge l'Italia nello scenario mondiale è la corruzione diffusa, il più grave problema del nostro paese è giudicato la mancanza di lavoro col 29,1%. Nell'elenco con il 13,3% troviamo l'eccessivo prelievo fiscale ed è significativo notare come all'interno di questo aggregato il 55,7% del campione ritenga della massima urgenza evitare l'aumento dell'IVA contro il 31,7% che parla di riduzione dell'IRPEF. Passando ai problemi vissuti come ingiustizie sociali si deve tornare a parlare di lavoro visto che il 37% indica come maggiore ingiustizia l'impossibilità di avere un buon lavoro. Non a caso se si va a guardare il complesso di ore effettivamente lavorate nel sistema economico nel 2017 sono state il 6% in meno rispetto al 2007, una riduzione simile a quella del PIL reale. L'attenzione di FIPE e Commercio Vicenza sulla corretta applicazione delle norme che regolano la somministrazione negli agriturismo è costante e si concretizza anche nel continuo dialogo con chi è preposto ai controlli, vale a dire con la provincia di Vicenza. In quest'ambito dunque nei primi giorni di aprile l'associazione ha chiesto all'ente di essere informata sull'attività ispettiva messa in campo nel corso del 2017. Pronta alla risposta degli organi provinciali che una comunicazione inviata a Commercio rilevano come nel corso dell'anno siano stati effettuati 47 controlli riguardanti le aziende agrituristiche della provincia di Vicenza. Tale attività di vigilanza ha portato a erogare 4 diffide e 7 sanzioni amministrative complessive. Grazie a tutti. Si avvicina la data di presentazione della dichiarazione modello 730 2018. Sentiamo a proposito Paolo Maran degli uffici fiscali e tributari di Commercio Vicenza le novità e alcune informazioni sull'assistenza di cui si può usufruire rivolgendosi al CAF 50 e più di Commercio Vicenza. La novità più importante è il termine di presentazione che è stato allungato per i contribuenti che si avvalgano di intermediari quali il CAF 50 e più che il CAF di riferimento di Commercio Vicenza. La data di presentazione per coloro che si presentano al CAF è il 23 di luglio, perciò molto più in là nel tempo rispetto all'anno scorso, mentre per coloro che si avvalgano di sostituto di imposta il termine è 7 luglio. Per quanto riguarda invece le novità fiscali, segnalo alcune precisazioni riguardanti le locazioni brevi, soprattutto le locazioni brevi per coloro che si sono avvalsi di intermediari. Queste le novità sono importanti perché su queste locazioni è anche applicata una ritenuta che deve essere dopo indicata nel modello dei redditi, della dichiarazione dei redditi. Inoltre è stato aumentato l'importo di detraibilità delle specie di istruzioni che da 564 euro è stato portato a 717, il 19% di questa somma. È importante ricordare che i contribuenti possono sicuramente usufruire del 730 precompilato che tra l'altro è molto pubblicizzato dall'amministrazione finanziaria. Però chi si presenta al CAF, in particolare per noi al CAF 50+, oltre ad avere l'aiuto e l'ausilio di una schiera di esperti che è stata appositamente istruita, ha anche la possibilità di ottenere il visto, il visto di conformità che dà la possibilità di non avere successivi controlli da parte dell'amministrazione finanziaria. Perciò l'invito è a rivolgersi verso tutti gli sportelli di CAF 50+, che sono presenti nelle segreterie mandamentali e a Vicenza nella sede provinciale di ConfCommercio. In settimana al centro formazione ESAC ConfCommercio, che ha sede a Creazzo, si è svolto un Open Day di presentazione del corso di alta formazione Master della Cucina Italiana 2019, che partirà a metà gennaio del nuovo anno. Tra gli invitati alcuni allievi delle scuole alberghiere del Veneto, accompagnati dai loro insegnanti, è lo chef stellato Alessandro Daldeganna, che è anche docente al Master della Cucina Italiana. Vediamo il riassunto della giornata. Quest'anno abbiamo scelto una formula un po' diversa rispetto agli anni precedenti, nel senso che abbiamo chiesto agli stessi istituti alberghieri di selezionare alcuni dei loro studenti di classe quinta particolarmente interessati a proseguire dopo gli studi con la loro formazione nel mondo della ristorazione. Per cui la platea era costituita da ragazzi realmente interessati ad ascoltare e a capire il senso e la filosofia di questo Master. Una formula collaudata che ormai ha dimostrato di essere assolutamente valida e apprezzata sia da parte degli allievi sia da parte dei ristoratori, degli chef stellati che operano all'interno del Master come docenti e che ospitano gli allievi in fase di stagio nei loro ristoranti. Sapere che la stragrande maggioranza, siamo attorno al 95% degli allievi che hanno frequentato questo Master si sono già affermati nel mondo della ristorazione o all'interno dei ristoranti in cui hanno effettuato lo stage o addirittura in qualità di imprenditori, nel senso che sono stati loro stessi ad avviare nuove attività ristorative. E questo ha rappresentato e rappresenta tuttora il vero successo del Master. Queste giornate sono particolarmente piacevoli per loro ma anche per noi di grande formazione perché dopo al termine di un percorso scolastico riteniamo che è importante dare loro l'opportunità di saper scegliere. Ne abbiamo parlato prima con i ragazzi e abbiamo veramente acquisito delle informazioni e delle cose nuove per tutti ed è il bello anche di vedere il dopo di quello che potranno fare dopo la scuola. Noi insegniamo e diamo delle indicazioni che sono limitate sia nel tempo che anche proprio nel nostro modo di pensare. Avere questa ampia gamma di scelta e di vedere questo mondo è stato per noi veramente proficuo, anche per loro. Se fai questo lavoro, lo fai per volerlo fare, ti è innato dentro e non perché tu abbia un obiettivo. Però c'è qualcosa che fa scaltare la scintilla a qualcuno e a qualcun altro no. Penso sia una scuola comunque molto importante, la conoscevo già e mi sono già iscritta, sono stata sincera e anche come ambiente, come persone, come obiettivo e principi penso sia ottimo. Oggi ho visto una grande offerta formativa dal personale presente alla lista dei docenti. Credo possa offrire molto e se si è ben disposti si possa anche imparare molto. Risulta molto interessante anche dall'aspetto delle materie, perché non è comune vedere una materia come zootecnica o biologia o qualcosa indirizzato alla pubblicità, magari ai social media. Quindi è veramente molto interessante e molto completa come offerta. Ed ora le altre interessanti proposte formative. ESAC a formazione propone dal 14 al 24 maggio in orario serale il corso di mental training per essere più consapevoli di sé, delle proprie capacità, ma anche per gestire meglio gli stress e i conflitti. Dal 14 maggio al 4 giugno corso matutino dal titolo vendere le emozioni, ovvero come creare la giusta atmosfera per trasformare l'acquisto in una vera e propria esperienza positiva. L'Università del Gusto propone il 24 maggio la giornata con lo chef Gianluca Tomasi dal titolo Prima del Gusto, per esaltare il gusto e ricercare l'equilibrio delle pietanze. Dal 15 al 29 maggio, in orario serale, il corso in più serate è dedicato alla pasticceria a casa tua per preparare in casa creme, pan di spagna, pasta sfoglia, torte, mousse e semifreddi. Ed ora l'agenda. Lunedì alle 12.30 giunta Ascom, alle 13 il Consiglio Ascom, alle 15 il Consiglio dell'Associazione Provinciale Agenti e Rappresentanti di Commercio. Martedì alle 20.30 Assemblea della Delegazione Comunale di Costa Bissara. Mercoledì alle 6.30 partenza del Tour 50 e più, verso Genova e le 5 Terre. Giovedì alle 15 il Consiglio della Delegazione Comunale di San Drigo. E per quanto riguarda questo appuntamento con Commercio Notizia è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Una rivederci e buona settimana. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. 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 Grazie.